E' ancora una volta, ben ritrovati a tutti voi cari amici e cari amiche, continuiamo la nostra serata cambiando completamente argomento e torniamo ad un nuovo approfondimento con il sindacato Will Dell'Ario Como. E' l'Eco, l'ospite di questa sera ci parlerà di un argomento, come sempre del resto, molto interessante e allora io saluto e ringrazio la mia ospite Marta Del Berme. Buonasera, grazie per l'invito. Come ho detto l'argomento è l'assegno unico universale che sappiamo comunque ha subito insomma qualche diciamo aggiornamento in merito e quindi direi iniziamo di fatto proprio da questo aspetto. Quindi quando è entrato in vigore e di che cosa si tratta? Allora è entrato in vigore dal primo di marzo, ha sostituito quello che era l'assegno al nucleo familiare e ha incorporato altri bonus che erano a sostegno della natalità e in particolare il premio nascita, il bonus bebè e poi le detrazioni per i figli fino a 21 anni. Ci sono stati quindi dei cambiamenti rispetto alla formula precedente, se sì quali e migliorativi in tutti i casi? Sì non in tutti purtroppo, non sempre. Non sempre, allora a differenza dell'assegno al nucleo familiare che spettava prima ai lavoratori dipendenti è stata ampliata la platea quindi spetta anche alle persone che sono inoccupate a patto che abbiano all'interno del loro nucleo un figlio con almeno, con età inferiore a 21 anni. Non si guarda più quello che è il reddito del nucleo ma è stata introdotta quella che è l'ISE, quindi questo indicatore reddituale del nucleo e quindi ecco diciamo che questo ha portato in alcuni casi dei vantaggi e in altri casi sicuramente delle penalizzazioni. Riusciamo ad evidenziare proprio in questa ottica quali sono stati i vantaggi e quali invece un po' gli aspetti meno positivi della questione? Nell'assegno al nucleo prima venivano semplicemente indicati quelli che erano i redditi appunto da lavoro di entrambi i genitori, oggi invece con l'introduzione dell'ISE viene proprio inserito quello che è il reddito di tutto il nucleo quindi anche di componenti che sono esterni a quello che era il nucleo base quindi mamma, papà e figlio e poi all'interno dell'ISE vengono anche inseriti quelli che sono i beni diciamo mobili quindi quello diciamo è una cosa che ha un peso diverso. È naturalmente certo, quindi l'ISE come documentazione torna ad essere fondamentale, ne abbiamo parlato molte volte con voi. Fondamentale ma non obbligatoria, in che senso c'è la possibilità di rinunciare quindi alla possibilità di avere quello che è il conteggio sulla base dell'ISE, si presenta la domanda senza appunto l'utilizzo di questo indicatore, la cosa però è che l'assegno viene pagato in misura minima, quindi parliamo di 50 euro per chi ha figli minori e addirittura 25 euro per i figli maggiorenni. Se pensiamo che questo è l'importo che una volta doveva diventare l'assommatore dell'assegno al nucleo familiare e delle detrazioni è chiaro che qualcosa di penalizzante c'è. Come in tutte le cose invece c'è chi ha tratto sicuramente del beneficio. Naturalmente dipende poi dalla situazione specifica nel caso, ma veniamo quindi a comprendere quali sono i soggetti che possono richiedere questo assegno. Allora sono tutti i nuclei familiari nei quali sono presenti figli minori di 21 anni, allora fino ai 18 anni non c'è alcun limite, nessun parametro, dai 18 ai 21 anni, e questa è una grossa novità che è stata introdotta, l'assegno al nucleo familiare arrivava ai 18, dai 18 anni si perdeva, c'è questo incremento dai 18 ai 21, i figli che rientrano in questa fascia sono coloro che frequentano dei corsi scolastici, oppure sono disoccupati, iscritti ai centri per l'impiego, o hanno un'attività lavorativa con un reddito inferiore agli 8 mila euro, oppure stanno utilizzando il servizio civile come forma di attività lavorativa. Quindi questa estensione probabilmente è stata ragionata proprio sulla base di questi aspetti che riguardano i giovani, o il fatto che appunto abbiano difficoltà magari ad inserirsi nel mondo del lavoro. Questo è stato uno dei vantaggi che ha dato questo cambio, è sicuramente quello, comunque si è ampliata quella che era la platea dei soggetti che ne potevano beneficiare. Ecco, una cosa molto importante che magari per tanti non è chiara, per i nuclei invece che rimangono legati a marito e moglie, ecco, per loro invece rimane la vecchia normativa, quindi l'assegno al nucleo familiare classico, canonico. Marito e moglie coniugati, oppure se c'è una separazione che succede? Coniugati, nulla, non spetta nulla. Nulla, non separatevi, non separiamoci, perché sennò diventa un problema, va bene. Quindi quali sono i requisiti che naturalmente devono essere presenti per poter ottenere questo assegno? Allora, come dicevamo, bisogna avere un nucleo con presenza di figli, ecco, un'altra cosa importante, non vi è limite di età per i figli disabili, per loro spetta a prescindere e basta. E poi l'ISE, ma ripeto, non è assolutamente fondamentale. Diversamente però si ricade in quel conteggio minimo che effettivamente è un po' stringente, però... Molto, molto, assolutamente. Naturalmente. La soglia massima del... c'è una soglia massima di riferimento dell'assegno? Cioè se abbiamo questi 25 euro non avendo presentato come minimo l'ISE? Sì, c'è una soglia massima che è di 175 euro per l'ISE inferiore ai 15.000 euro, che può essere ulteriormente incrementata con delle maggiorazioni che spettano ai nuclei, nei quali sia mamma che papà lavorano, oppure, come dicevamo appunto, con l'ISE inferiore ai 15.000 euro, o se venisse fatta una proiezione di quello che era l'assegno familiare che spettava prima e questo fosse, diciamo, sfavorevole, avrebbe appunto una maggiorazione... Una compensazione, insomma, ecco, per aggiustare un po' il tiro. Siamo pronti. Sì, mi Marta, la data del primo luglio. È una data significativa su questo argomento che stiamo trattando? Allora, è significativa perché, come dicevamo, la norma è stata introdotta dal primo di marzo. È stata data la possibilità di presentare le domande entro il 30 di giugno per ottenere gli arretrati da marzo. È chiaro che tutti coloro che presenteranno domanda dal primo di luglio perderanno l'arretrato quindi di marzo, aprile, maggio e giugno e da quel momento, quindi, l'assegno verrà erogato dal mese successivo alla presentazione della domanda. Quindi è importante, visto che siamo ai primi di giugno, è certo che chi non l'ha fatto si preoccupi di farlo il prima possibile. In tempi brevissimi e in questo senso, quindi, prendere un appuntamento con voi attraverso i canali tradizionali, sempre, diciamo così, come abbiamo comunicato in tutte le occasioni precedenti, con un appuntamento telefonico. Esatto, attraverso le mail oppure presentandosi di persone ai nostri uffici fissando appunto un appuntamento. Quindi è possibile ora, diciamo, abbiamo anche la possibilità di presentarsi direttamente in presenza presso i vostri uffici senza i preventivi appuntamenti come è stato nel periodo Covid, per intenderci. Esatto, in questo periodo poi, dato appunto la scadenza imminente, stiamo cercando di andare incontro all'utenza e quindi di evitare che perdano un beneficio... Importantissimo, quindi ci siete, siete a disposizione assolutamente. Sì, assolutamente. Altro aspetto, abbiamo, infatti ho detto, genitori coniugati e non separati, però un'altra situazione può essere quella nella quale magari, visto che siamo anche in una zona di interesse, magari uno dei due genitori è frontaliere. Sì, esatto. Che cosa succede? Allora, questo è un interesse che è una domanda molto interessante. La Svizzera da qualche anno ha adottato un sistema di erogazione dell'assegno familiare per differenza. Cosa vuol dire? Faccio un esempio semplice. In Svizzera aspettano 200 franchi a figlio. Prima era la Svizzera che pagava l'assegno per i figli di questi lavoratori frontalieri. Oggi dice, no, io pago la differenza, quindi l'altro familiare che lavora o comunque vive in Italia, perché come dicevo spetta anche agli inoccupati l'assegno unico, deve presentare richiesta in base all'importo che verrà erogato dall'Inps, quindi dall'Italia, la Svizzera pagherà la differenza. Tanti non lo sanno, ma le casse di compensazione svizzera hanno bloccato i pagamenti di questi assegni proprio in attesa di ricevere le comunicazioni dei familiari in Italia. Ancora più importante quindi è che questi soggetti presentino la domanda entro fine mese, perché si rischia poi di perdere cifre importanti. Importanti, ha maggior ragione. È davvero telegrafica in 30 secondi, ma è importante il bonus di 200 euro previsto a luglio. Sì. Arriva a chi? Velocissima. Allora, arriva, spetterà a tutti i lavoratori pensionati che abbiano un reddito inferiore ai 35 mila euro. Per i lavoratori, sia dipendenti che stagionali, non andrà presentata alcun tipo di domanda, verrà erogato in automatico. Stessa cosa vale per i pensionati e i disoccupati che a giugno saranno titolari di disoccupazione. Chi è rimasto fuori da questa erogazione automatica sono le colfe e le badanti, che dovranno presentare una domanda sempre presso i nostri uffici. L'Inps a oggi non ha ancora aperto la procedura per inviarli, contiamo che sia attiva dalla metà di giugno. Anche per questo a disposizione di persona tramite appuntamento. Avete un bel da fare. Assolutamente. Grazie a Marta Del Verme per essere stata con me. Grazie per l'ospitalità. Alla prossima. Vi ricordo velocissimamente la nostra mail. Continuate a scrivere ad angoli chiocciola, espansionetv.it. Ci rivediamo domani tra poco l'informazione. Grazie a tutti.